avvicinare i bambini ai racconti fantastici della mitologia antica attraverso il movimento e questo l'obiettivo del prossimo webinar su tecnica della scuola miti e movimento vedremo tantissime proposte pratiche per dare ai bambini la possibilità di vivere in prima persona le affascinanti storie di eroi divinità e miti che rappresentano la culla della nostra cultura giochi esercizi di espressività corporea per conoscere e per conoscersi ti aspetto al prossimo webinar miti e movimento